Una collaborazione tra territori confinanti seppur tra due regioni diverse, Verbano Cusiostro, La Novara e Varese. Come è andato questo incontro? Abbiamo definito di migliorare la sinergia e la collaborazione che c'è già in atto almeno come province perché pensiamo che dobbiamo unirci anche in vista di appuntamenti importanti come l'Expo 2015, quindi unirci sul settore del turismo, sul settore dei trasporti, sul settore del marketing territoriale. Non si può certamente vendere il Lago Maggiore in modo diviso e quindi da oggi inizia una collaborazione molto stretta tra i tre capoluoghi e le tre province che io spero e mi auguro possa portare dei risultati positivi per lo sviluppo dei nostri territori. Zacher ha detto che però mentre lui e Sozzani sarebbero più verso anche un obiettivo di fusione in futuro tramite un referendum, lei è per rimanere in Piemonte? Noi siamo piemontesi, certamente vedremo negli anni prossimi cosa può accadere, certamente è una scelta che deve fare la comunità, penso che non bisogna bruciare i passi, bisogna cercare di andare avanti, di capire come questa collaborazione può funzionare perché poi io voglio anche dire che certamente diciamo che Torino è lontano ma in questi anni grazie anche al lavoro di consigliere regionale di questo territorio abbiamo avuto anche delle risposte.